salve a tutti sono sergio e oggi per toys addicted presentiamo una delle ultime realizzazioni della enter bay abbiamo qui al pacino che interpreta a toni montana del film scarface il capolavoro diretto da brian de palman questa versione della enter bay che vediamo è la respect version fa parte della enter bay serie real masterpiece scala 1 a 6 il product code rm 1032 è uscita nella metà di febbraio 2012 disponibile direttamente dal loro sito a 225 dollari incluse spese postali la enter bay ha fatto uscire anche un'altra versione che si chiama war edition potete capire che è una versione diciamo più cruenta rispetto a questa in cui all'alpacino indossa diciamo tra virgolette un volto più feroce quella versione si contraddistingue anche per avere un armamentario diverso veramente più pesante è uscita anche una versione definita si chiama twin pack costa 375 dollari che vede tutte e due le action doll quindi con diversi accessori per la cronaca c'è anche un'altra casa che ha fatto uscire l'action doll di toni montana proprio con questa questo vestito che è la blitz way infatti nel giugno del 2001 fatto uscire una un'edizione simile onestamente mi sembra di aver visto dalle foto chi avesse una scultura del volto un po inferiore a livello qualitativo ricordiamo che questa bellissima scultura e dj park ha fatto sia la scultura della testa che anche la dipinta è alto circa 30 centimetri indossa il già indossa l'action doll è un body rm5 che è l'ultimo body creato dalla inter bay che ha ben 40 punti d'articolazione questo body può essere acquistato con le fattezze del personaggio di mr hann il cantivo di enter the dragon con bruce lee il vestiario di ottima fattura toni montana indossa un blazer lucido di rivere qui sulle sulle spalle c'è forse un po troppo imbottiture che lo rende un po un po goffo comunque poca cosa sotto c'è una camicia sul rosso acceso diciamo che riprende la qualità della seta abbiamo un bottone qui un altro bottone qui sul blazer vi consiglio a chi prendesse questa action doll di tenere sempre le mani pulite perché immagino che sia molto facile da sporcare questo vestito riguardo le articolazioni qui la testa buona articolazione anche qui sul collo sotto il chest in pvc morbido vedete il torace a differenza della del del restante body che in pvc solido questo il torace è in pvc morbido infatti il dito sprofonda di qualche centimetro attenzione a questi movimenti perché le cuciture della giacca ecco qui soprattutto ho notato che tendono un po accedere double joint sui gomiti attenzione ho notato che la diciamo le articolazioni qui a livello delle anche sono molto dure nei movimenti in avanti e indietro fa molto resistenza diciamo arriva mi dà la sensazione di rischiare di rompersi infatti ho diciamo spogliato l'action doll per andare ad allentare le viti che tengono strette queste giunture in modo da allentare un po vedete sentite lo scatto non è molto fluido ecco lateralmente invece è ottimo ottimi anche le ginocchia sempre a scatti il dorso del piede qui al diciamo al livello del sì del dorso del piede prima delle falangi c'è un piccolo cilindretto un piccolo cilindretto metallico che fa diciamo flettere le dita in sopra e sotto cosa che non so per questo per questo tipo di action doll è inutile le giunture delle mani una ball joint la camicia simil seta in rosso molto acceso è fatto bene anche la cintura insieme pelle che si può levare ovviamente la interbay si fa ancora valere per quello che riguarda lo sculting della dell'action doll il painting multistrato anche qui veramente eccezionale ci qui ci troviamo di fronte ad al pacino lo scarface quello che tutti abbiamo potuto conoscere nel film di brian de palma la verniciatura multistrato rende benissimo quelle che sono le imperfezioni della pelle qui l'acceno di barba incolta che poi riprende anche lungo il collo del corpo la cicatrice qui non è semplicemente una verniciatura ma è proprio fa parte dello sculto dell'immagine che si prolunga anche qui sul sopraccidio poi è anche bello qui il particolare i capelli sono scolpiti anche questi magnificamente è bello che stacchino qui sulla fronte qui a livello delle tempie troviamo due fa e due fori dove poter inserire le stecchette della della montatura degli occhiali davvero ben fatto passiamo adesso l'analisi degli accessori innanzitutto i quattro set di mani che troviamo all'interno della confezione mano destra con i due anelli e mano sinistra entrambe sono diciamo adattate per poter utilizzare la pistola tenere il sigaro o anche le banconote risalta la bellissima colorazione da parte dell'enter bait dell'enter bait la colorazione multistrato che permette di dare risalto alle caratteristiche in questo caso alle imperfezioni della pelle e anche alle venature che si vedono tratteggiate di verde dal punto di vista del modello della stampa diciamo del delle mani ci sono si possono notare alcune imperfezioni come potete vedere qui sul dito medio per esempio vedete questa leggera sbavatura oppure ci sono queste linee dello stampo qui si vede meglio ecco riguardo alla scultura anche gli anelli secondo quella che diciamo il mio parere non sono stati fatti ricreati bene perché sembrano proprio incollati alle dita non diciamo staccano rispetto al resto della della scultura della mano sembrano quasi che siano incollati e questa sensazione me la dà anche il vedere le dita unite vedete medio e anulare sarebbe stato più bello vedere una linea di separazione tra queste la inter bay inoltre ha pitturato egregiamente su ogni mano destra il tatuaggio di toni montano lo vedete che è un cuore nel film c'è una scena in cui i poliziotti interrogano i poliziotti dell'immigrazione interrogano toni montana riguardo questo tatuaggio lui scherzosamente risponde gli risponde che si tratta di un tanto un tatuaggio amoroso mentre invece i poliziotti sanno benissimo questo è un tatuaggio che si fa in carcere per indicare una persona che ha ucciso quindi si tratta di un sicario ecco